Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale ART, siamo ancora una volta su RIMS, ma come vedete non stiamo iniziando dalla carriera, la solita schermata che vedevate. Questo perché oggi, giusto qualche ora fa, è uscita la patch, e vado a leggere il changelog perché l'ho screenshotato. Allora, fixes and improvement general, quindi miglioramenti in generali, miglioramento per la localizzazione, quindi avranno aggiunto qualche lingua o avranno corretto qualcosa negli script. Fixed location issues, quindi quando andate in una determinata pista i problemi sono stati risolti. Improving overall stability for the game, quindi la stabilità del gioco è stata migliorata in generale. Improvement on UI, quindi sul sistema dell'intelligenza artificiale, sono stati fatti dei passi avanti. Fixed some riders animations, quindi è stata anche aggiustata l'animazione dei piloti. Fixed some bikes textures and shapes, è stata migliorata anche le texture delle moto e le loro forme. E bilanciamento generale. Io mi sono già fatto un piccolo test, da quello che ho potuto scoprire, adesso le moto fanno uno slide molto più armonico, non è più così neurotico come lo era prima in fase di frenata. In fase di accelerazione non capita più tanto spesso che il motore faccia pattinare così a vuoto la gomma senza che il controllo trazione intervenga. Quindi noi ragazzi, ora che facciamo? Per mettere alla prova questi miglioramenti, andiamo proprio nei tre circuiti che erano il fulcro critico dei lag o comunque dei rallentamenti. Cioè, Fuji Speedway, Monsanto e Nürburgring. No, scusate, Monsanto si si rallentava ma non tanto, Suzuka e Nürburgring. Quindi noi andremo prima a vedere quello che succede in questi tre circuiti. No, era Monsanto, ragazzi, vi sto confondendo. Era Monsanto, non era Suzuka. Suzuka l'abbiamo fatto sì o no due volte, quindi Fuji, Monsanto e Nürburgring. Andiamo a vedere questi tre circuiti iniziando dal Fuji, che era il secondo tra i più critici. Allora, iniziamo da Monsanto. Facciamo due giri di gara, mettiamo l'asfalto così, cambia regole, giri di gara, facciamone due soli. Performance A, sì, dai, è. Qua mettiamo 10, perché se no non aveva problemi neanche prima. E cambiamo la moto, lasciamo la Yamaha per una volta, mettiamo, dai, un Ducati Panigale V4. E iniziamo l'evento. Prima di proseguire, ragazzi, mi raccomando di lasciare like al video, iscrivetevi al canale e attivare la campanella degli avvisi. E vi ricordo che stasera saremo live su Twitch per la quarta gara, prima della pausa di due settimane, del West GT Sniper. Ci stiamo giocando il terzo posto, quindi cazzotti e sportiveggiati. Dai ragazzi, ci vediamo. Benissimo, ragazzi, eccoci arrivati a Monsanto. Senza perderci troppo in chiacchiere, montiamo delle gomme molto prestazionali, SC0. Dai, va bene così. E senza neanche toccare il carburante, partiamo subito. Non dobbiamo vincere, dobbiamo giusto testare. Ma è migliorato il motore? Sì, sembrano migliorati i sound, vabbè. Non si rallenta, è già una gran cosa. In questo punto della pista si rallentava sempre. Dai, ma non ho guadagnato. Scusi a lei. No, raga, che bello. Non si rallenta più. Non si rallenta più. Non lagga più. È tutto perfetto. Anche più morbido nelle impennate. Eh, qualche piccolo scattino qua l'ha fatto, però, ragazzi, è oro in confronto a prima. Nelle zone dove c'erano più alberi era la parte critica, cioè questa. Ecco, un piccolo laghetto l'ha fatto, ma, raga, veramente, non è niente a che vedere con quello che c'era prima. Finalmente sto gioco si può giocare. L'ha è stata migliorata, sì, però comunque si prende sempre troppo tempo. Sto notando, ragazzi, che in fase di rilascio, cazzozza, in fase di rilascio, prima il motore si sentiva molto meno, adesso è più forte, più potente. Si vola. Ecco, qua il piedino fuori a destra, non ho capito il perché. Molto bene. Voglio provare anche a fare un'altra cosa, voglio vedere se hanno migliorato, ma non credo, perché non hanno scritto, no, rimane sempre al centro. Voglio vedere se avevano migliorato la visuale dall'interno, perché io gli scrissi che il pilota avrebbe dovuto puntare lo sguardo più verso l'interno. Ciò non veniva fatto e continua a non venire il fatto, pazienza. Avete visto là? Lì saremo caduti prima della patch. Uh, uh, si è imbarcata così, però la, diciamo, l'ha accompagnata. L'ha accompagnata la curva, non si è impuntato, imbizzarrito. Un piccolo laghetto qua, ragazzi, ma veramente è guardare il capello così, eh. Senti schiocchietti. Guarda come galleggia all'anteriore, non si alza più tantissimo. Adesso galleggia, letteralmente. Come nella realtà, tra l'altro. Di Vika si impegnano le moti, cioè voglio sperarti no. E si va a prendere questa vittoria, nonostante non fossimo in lizza per la vittoria. Raga, no, vabbè, finalmente è giocabile. Secondo test, ragazzi, al Fuji. Stavolta ce lo mettiamo con... Non so, che cosa mettiamo? Condizioni. Mettiamo meteo coperto. Dai. No? Nuvoloso, nuvoloso. Nuvoloso. Asfalto umido. No, vabbè, mettiamo secco, dai. Nuvoloso con l'asfalto secco. No, va bene il Fuji. Volevo cambiare la moto. Che mettiamo? Mettiamo... Dai, l'M1000, che è quella che, diciamo, che aveva più accelerazioni di tutte e spesso e volentieri pattinava tanto il posteriore. Dai, andiamo in pista. Eccoci al Fuji, ragazzi. E questo è un test durissimo per questo gioco, perché il Fuji rallentava molto, ma molto di più del... Non mi ricordo che. Del Monsanto, ecco. Allora, ragazzi. Come assetto mettiamo questa roba qua. Pneumatici SC1 ed SC0, come sopra. Carburante, dai, lo riduciamo a sto punto. Sentite che si sente di più il sound del motore, ragazzi. Non è una mia impressione, vero? Dai, con le slick. Bellissimo. Vabbè, tre secondi di penalità, fa niente. Senti quando arriva l'imitatore adesso? Mica prima lo faceva. Vibra il joypad, raga. No, raga. È un piccolo rallentamento, ragazzi, ma non fa niente. Adesso voglio provare a prendere un cordolo. Per capire se sono ancora sapponette come lo erano prima, oppure no. Vediamo di prendere questo cordolo esterno. Non siamo scivolati! Non siamo scivolati. E la BMW, se slitta, si imbarca adesso. Non ci posso credere. Che goduria. Prima se prendevamo i cordoli interni, vi ricordate, ragazzi, che nella carriera si scivolava tanto. Si scivolava veramente tanto. No, vabbè, hanno risolto anche quello. I cordoli non sono più saponette. Ora, magari ho preso gli unici due cordoli che non lo erano neanche prima, però... Sembra che abbiano piccola laggata qua, ma veramente impercettibile, all'occhio meno esperto. Vediamo se andiamo a pubblica tiveria. No, vabbè, non ho voluto andare sul cordolo. Lo facciamo dopo, all'ultimo giro. Senti come batte in testa il motore quando sta a raggiungere il limitatore. Sentilo! Sentilo, il limitatore! Il capo faceva così. No, raga! È diventata la moto definitiva, questa! Imbarcatina. Allora, abbiamo frenato sul cordolo e non ci è successo niente, non siamo esplosi. Il che lo considero già una grande vittoria. Ma l'abbiamo provata a Monsanto. Dopo proveremo a Nürburgring poi. Raga! Veramente non slitta più quando apri tutto sta moto. È diventata la moto definitiva. Io ora non ho provato prima col Ducatone. Come ce l'ha chiusa la curva, che piacere! Ecco, adesso ce l'ha data una slittatina. Prima era veramente inguidabile sta moto, faceva veramente schifo. E adesso noi giocatori di Rims dovremmo adeguare tutto il nostro stile di guida. Ah, eh no, allora... Comunque è diventata sapone. C'è da dire che però eravamo tutti accelerati. Vediamo. No! Eravamo piegati e accelerati. Ci è scivolato il posteriore. È giusto che sia così, per carità. Però... Mi sta un po' antipatica. Però se vai a gas chiuso adesso non c'è più pericolo che ti stendi. Molto bene, molto bene. Ragazzi, che vedevo di... Sono contento, finalmente si potrà giocare. Ho registrato altri tre video con i rallentamenti, quindi vedrete fino all'episodio 22 delle condizioni indicibili. Però adesso arriva la prova del 9, ragazzi. Con il diluvio piovoso al Nürburgring. Diluvio e Nürburgring non sono mai andati d'accordo. Non dovevo cambiare il tracciato, ma cambiare la moto. Andiamo a sentire se hanno migliorato il sound della Yamaha e partiamo subito per questa sfida. Sento già il rumore della pioggia, ragazzi. Sento già il rumore della pioggia. Ed eccoci qua, il Nürburgring sul bagnato. Queste erano le condizioni peggiori che potessero capitare su RIMS. E... vabbè, andiamo a mettere delle gomme decenti. Mettiamo la Diablo Reina avanti e dietro. E il carburante lo scarichiamo un pochino. Va bene. E... dai, proviamo. Che dite? Ci buttiamo? Andiamo in pista? Allora... Mettiamo il Traction a 4. Che ci taglia più un po' di potenza. Allora, prima qua già iniziava la gara. Scusi è che fa tampona. Uh, mi ha visto il pilota dell'IA. Mi ha visto e si è spostato. Cioè, si è proprio buttato per aria. Leggero l'alentamento qui. Ma non ci impedisce di giocare come era prima. Guarda adesso lo stile spalle fuori. E proprio... si brutta fuori. Guardali! Guardali là! Che spettacolo! Questo si è piantato. Lo superiamo all'esterno, allora. Allora, il fatto di avere forse... Il TCS a 4 ci dà meno potenza, ovviamente, ma... Ci dà anche più controllo. No, raga! Non rallenta neanche qui. Cioè, sì, rallenta poco a poco ogni tanto. In situazioni particolari, quando c'è troppa polla. Però... Normalmente non lo fa. E guarda i piloti dell'IA adesso come vanno a cercare di evitare i fossi. Certo che se... Le moto ribaltassero anche un po' d'acqua sotto la pioggia. Scusi, lei. Ma mi si è bloccata davanti. Dicevo, se le moto sollevassero un pochino d'acqua sotto la pioggia... Avremmo fatto tombola. Però... Oh, oh! Che fa? Scusi, spinge! Se stesso, tra l'altro. Cioè, non è più come prima che ti beccavano, loro andavano dritti. Si è chiuso l'anteriore quando mi ha toccato. Errore dell'MV. Proviamo a prenderlo un cordolo adesso. No, no, sul bagnato i cordoli. Dai, è naturale che sul cordolo, sul bagnato, implodiamo male. Sono felicissimo, ragazzi. Lungo. Sentivo l'anteriore che stava scappando via, ragazzi. Mi sembra che siamo migliorati i sound, ragazzi. Specialmente in fase di rilascio. Sono un po' più... E guarda adesso come si muove meglio il pilota in frenata. Dove punta le braccia proprio sul manubrio per non andare in avanti. Sento l'anteriore che tende sempre a scappare. Qualunque situazione. Tipo qua, adesso l'ha fatto per tutta la curva. E adesso, attenzione che abbiamo il Suzukone dietro. No, raga, che felicità. Che felicità. Potremmo andare avanti con la carriera. Ma guarda qua che staccata gli ha tirato. E tra l'altro ho notato che tirare il freno posteriore adesso non solo ti aiuta a chiudere meglio la curva, ma ti aiuta anche un pochino di più a frenare e spesso blocchi la ruota posteriore. Mentre prima non succedeva mai. Molto bene. Senti che quando sballonzola si sente fare la moto che accelera e frena, accelera e frena. Bellissimo. Oh, secondo me doveva uscire adesso sto gioco. Adesso è perfetto, ragazzi. Quei piccoli difetti, va bene. Li accettiamo al day one del gioco, ma dopo due mesi magari possono anche far incazzare qualcuno. Qua siamo passati sul cordone, non c'è successo niente. Attenzione anche qui. Si imbarca un pochino il posteriore, fa niente. Mettiamo un po' di potenza in più, un po' di pepe in più a questa moto. E ci andiamo a prendere la vittoria. Benissimo, ragazzi, benissimo. Allora, allora. Allora. Non è perfetto. Non sto dicendo che adesso è perfetto. Io sto dicendo che i problemi più gravi che impedivano addirittura di giocare a questo gioco. Perché parliamoci chiaro, ragazzi. I video che vedrete, fino all'episodio 22, sono stati registrati entro la prima metà di settembre. Poi non ho più toccato il gioco, ma neanche per accenderlo. Forse ho fatto solo le prove, le sfide mensili del multigiocatore per guadagnare un po' di crediti. Però non l'ho proprio più acceso. Perché? Perché eravamo arrivati a un punto dove c'era una gara di questo tipo. Nürburgring sul bagnato e non si capiva niente. Letteralmente niente. Quindi, bravi, bravi, bravi i produttori di RIMS, i progettisti e gli sviluppatori. Bravi perché hanno ascoltato l'utenza. Bravi. Questo gioco non meritava di essere distrattato. Io l'ho sempre detto. Anche i più scettici avevano inizialmente detto No, è più realistico Ride. Per poi diventare... Cambiare parte, ecco. Dire no, io sono tornato sul Ride dopo RIMS e non mi sono trovato. Perché sul RIMS è molto più realistico. Le moto hanno un peso specifico molto più importante. E soprattutto una tenuta di strada molto più realistica. Ho visto gente che ha cambiato bandiera, convinta che RIMS sia migliore. E io sono tra quelli, eh. Io sono tra quelli che gli ha sempre dato fiducia. Quindi, bravi Race World Studios. Adesso, adesso, mettete le 600. Adesso mettete le 600 perché solo le 1000 sono troppo poche. Vogliamo la carriera con le 600. E voglio vedere, voglio vedere se alcuni diranno ancora che RIMS ha poche moto. Bene ragazzi, perché questo video si conclude qui, ovviamente. Noi ci vediamo con la carriera di RIMS domani. Mi raccomando, stasera alle 9. Ci vediamo su Twitch per la live della gara. Non perdetevela per nessun motivo. Art Racing Team, tutto unito è il nome del canale Twitch. Non ve lo perdete, mi raccomando. Venitemi anche a supportare perché ci stiamo giocando il terzo posto nel mondiale. E oggi sarà la gara lunga aleman. Un'ora dove verranno ripercorse le 24 ore del circuito. Mi raccomando, iscrivetevi anche al canale YouTube. E attivate la campanella degli avvisi se vi piacciono i video di RIMS. Noi ci vediamo alla prossima. Un bacione. Grazie per aver seguito questo video. Ciao a tutti. Ciao a tutti.